Buonasera e bentornati a Primo Cittadino, un 2023 che quest'anno vogliamo chiudere insieme al sindaco di Fano Massimo Seri. Bentornato sindaco. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Dicevo, questa sarà l'ultima puntata del 2023 perché poi ci fermeremo per due settimane per poi ritornare l'8 di gennaio, lunedì, sempre alle ore 19 in diretta. Come lo siamo ora? Potete intervenire telefonando lo 0721 86 14 33 oppure inviando un messaggio su WhatsApp al 338 49 68 250. Sindaco, di solito lasciamo la politica alla fine delle puntate di Primo Cittadino ma visto imminente, diciamo così, quasi arrivo delle amministrative 2024, domani dovrebbe uscire un altro nome, un altro candidato ma non spoileriamo più di tanto. Vorrei chiederle che cosa ne pensa, siamo un po' in ritardo con questo via della campagna elettorale e poi cosa ne pensa anche delle primarie. Bene, ma adesso è normale che ci sia discussione, si chiude un ciclo dopo dieci anni con una caratterizzazione che vedeva me come sindaco, quindi si apre una nuova storia, un nuovo ciclo per cui ci sono persone, uomini e donne che dopo un'esperienza pensano di poter avere la legittima aspettativa di poter rappresentare una coalizione. Quindi non sono né stupito, è chiaro che la politica dovrebbe avere la capacità di fare sintesi e questo la vedo sempre più complicato. Ovviamente ci sono figure, persone che sempre più rappresentano le proprie rappresentanze politiche. Quindi vediamo nelle prossime ore le primarie, io sono per l'idea che se si ha la capacità di fare la sintesi su un candidato sia la cosa migliore e condiviso da tutte le forze pulite. Quando questo non è possibile non vedo alternative, altri strumenti al di fuori delle primarie. Diciamo anche perché le primarie possono anche essere un'arma a doppio taglio, possono se c'è una grande partecipazione sono il risultato del candidato più gradito dai cittadini. Se invece c'è una bassa affluenza è più una lotta di potere tra gruppi legittimi, però non sempre questa corrisponde, si riflette a quella che è la volontà popolare. Poi alla fine la verità vera, la dicono sempre i cittadini alle elezioni. Il futuro del sindaco invece qual è? Già l'ha dato la disponibilità per le europee? Guardi, adesso ho fatto un'esperienza bella, poi non sta a me esprimere un giudizio sul mio operato in questi dieci anni. Io personalmente mi sento soddisfatto, poi come tutti ci sono obiettivi raggiunti, altri meno, altri degli errori commessi, guai chi non li commette. Mi piacerebbe fare altre esperienze, io questi anni ho avuto un profilo anche di carattere internazionale, se questo è possibile non mi tiro indietro, se non è possibile torno a fare il mio lavoro. Io fortunatamente ho un lavoro, quindi vediamo cosa accadrà nelle prossime settimane. C'è qualcosa che avrebbe voluto fare e che non riuscirà a farlo entro questo mandato? Le cose da fare sono tante, per esempio una cosa che avrei voluto riqualificare, Piazza Miani, però aveva una sua complessità, quindi non saremmo riusciti nelle tempistiche del pubblico, anche con i finanziamenti che era possibile avere, non saremmo stati nei tempi. Poi adesso non mi vengono in mente, ma sicuramente è un lungo elenco di cose che avrei voluto fare e che non sono riuscito a fare. Per i bagni pubblici pensa che farà in tempo? I bagni pubblici volevamo realizzarli entro quest'anno, perché abbiamo già, l'assessore Barolo Brunori fra l'altro aveva già preparato il piano, è una questione economica, di spesa corrente che ci crea un po' qualche difficoltà. Speriamo insomma di poterla fare nei prossimi mesi, perché oggettivamente una città non può non avere i bagni pubblici. Iniziamo a leggere qualche messaggio che ci è arrivato già anche nel pomeriggio. In via Croce Elevata, che presenta buche come crateri, quando verrà rifatto l'asfalto, si trova a Falcineto Alta? In questo momento non è nel programma degli asfalti, adesso avevamo in programma un importo significativo, ma adesso per ragioni di bilancio abbiamo dovuto contenere, quindi ci sarà un intervento ridotto, in questo primo intervento non è nell'elenco, anche se è una strada che ha necessità di una manutenzione straordinaria. Invece ci dicono che all'inizio di via Brigata Messina sulla rotatoria ci sono due attività commerciali, dove hanno fatto dei parcheggi, ma coloro che in auto escono da via dei condotti sono costretti ad arrivare a metà della carreggiata di via Brigata Messina perché manca la visibilità ed è molto pericoloso. Ho già mandato video segnalazioni, ci ha scritto il telespettatore a due assessori, prima che si verifichi il peggio è necessario rimuovere quei posti auto o quantomeno trovare una soluzione. Lo segnalerò all'ufficio viabilità. Sindaco, le più volte ha detto che la città è un vero e proprio cantiere, c'è un cantiere in particolare a cui tiene particolarmente? È una città veramente in cantiere, i cantieri sono veramente tantissimi per decine e decine di migliaia di milioni. Vorrei fare anche una battuta, vedo, leggo anche sui social, ci sono le elezioni fra poco, adesso fanno tutti questi lavori i cantieri. In realtà è normale che arrivino a fine mandato perché per fare un'opera non è che ci si sveglia due mesi prima. Opere e interventi importanti occorrono degli anni perché c'è la progettazione, c'è il finanziamento, c'è la gara d'appalto e poi ci sono i lavori. Quindi, e tant'è che molti di questi andranno, slitteranno nel mandato successivo, li lascerò in eredità al collega o la collega che mi seguirà. È la città effettivamente un cantiere aperto, stiamo creando anche dei disagi ai cittadini, ce ne rendiamo conto, ci scusiamo, però quando si fanno delle opere è inevitabile. Come si dice spesso, i disagi passano e le opere rimangono, quindi chiediamo un po' di pazienza, poi alla fine il risultato ripagherà la pazienza mostrata dai cittadini come è avvenuto in altri luoghi. Penso ad esempio il Pincio, anche lì abbiamo avuto disagi per gli operatori, per chi ci abitava, però oggi possiamo dire che tutte quelle persone sono molto soddisfatte e hanno tratto un beneficio importante. Tra questi quali cantieri? Sono tutti importanti i cantieri. Forse quello su cui c'è un'aspettativa maggiore sono i due riqualificazioni del lungomare. Infatti guardi, glielo leggo perché è arrivato ora un messaggio proprio su questo. Perché è stato abbattuto l'anfiteatro Rasta? Allora, intanto c'era una necessità di riqualificare quella zona perché adesso anche su questa cosa si dice sceso dall'alto, sono tre anni che ne parliamo, sono tre anni che facciamo incontri pubblici con tutti gli operatori, abbiamo fatto due incontri pubblici con la cittadinanza, però è vero che la cittadinanza non sempre partecipa. Quante volte abbiamo fatto vedere il rendering anche qui su Fano TV, sulla stampa, ripetutamente conferenze stampe, quindi non è caduto dall'alto. C'è la necessità di riqualificare, quella era una bellissima opera negli anni Ottanta, anche io guardando una foto dall'alto è un bel segno, però oggettivamente la gente si lamentava, insomma lo viviamo, adesso se vogliamo mettere le bende e non riconoscerlo, quella parte lì non veniva più vissuta. Era vissuta solo quando c'erano gli eventi e la gente andava, altrimenti poi è una barriera verso il mare. Quindi abbiamo deciso che il lungomare andava riqualificato per stare il passo anche con altre città, perché altrimenti si rischiava di rimanere sempre indietro. Abbiamo fatto un concorso di interesse, poi c'è stata una commissione e sono professionisti importanti che hanno fatto questa proposta. Poi non è che andiamo a scegliere la persona che ci piace e gli diamo indicazioni, gli diamo indicazioni di massima, poi siamo nel pubblico, ci sono commissioni che fanno vincere un certo progetto, un certo lavoro e su quello poi si va avanti. Quindi c'era una necessità manifesta anche da più parte delle persone, poi capita spesso, ci si lamenta per poi dire il contrario, che capita anche questo. È una minima parte. È un po' di riferimento per tante persone, quindi rimasso nel cuore, oltre al gemellaggio. Per carità, poi non cambierà il numerastate, rimarrà, ci mancherebbe altro. È anche un legame con la nostra città gemellata, fra l'altro con la quale c'è un rapporto costante, è bello, è vero. Quindi era questa la ragione che ha portato ad una riqualificazione che dovrà accompagnarsi. Anzi, posso dire che ho già trovato altre risorse, abbiamo trovato altre risorse, anche per un secondo intervento. Un secondo sarà la passeggiata dell'Isipo, che verrà riqualificata, l'ingresso ha migliorato, ma anche per il borgo, vicino al faro, lì faremo delle cose importanti che non sto ad anticipare, però anche su questo lasceremo una bella eredità per la città. Quindi la passeggiata dell'Isipo pensa che non si riuscirà a sistemarla prima della prossima estate? Spero di sì, perché adesso l'ultima autorizzazione è arrivata, anche qui ci fanno impazzire mesi per avere una firma tra Ministero, De Magno e Ministero in particolare. Però ormai ci siamo, adesso è solo la gara d'appalto, poi sono un paio di mesi di lavoro e dovremmo riuscire a farlo anche perché poi non è bello farli durante l'estate i lavori. Certo, mi dicono dalla regia che c'è una telefonata per lei. Buonasera. Buonasera. La sentiamo perfettamente. Buonasera. C'è il sindaco che l'ascolta, prego. Buonasera sindaco, scusi se lo disturbo. E guardi, io sono la signora Guccioni, questa qua giù è la strada di mezzo di Tombaccia, ok? Hanno fatto un pezzo di strada e un pezzo no. A me, proprio dalla mia parte, non hanno fatto nulla, sindaco. Come si fa? Io ho mia suocera che dobbiamo portarle, guardi, un giorno sì e un giorno no, sempre in ospedale con ambulanza. No? Sì, lei mi dice la strada di mezzo e quella nel mezzo o quella vicino all'autostrada? No, questa qui, strada di mezzo, questa qui che dove, insomma, dalla Tombaccia è venendo oltre. Sì, sì, no, ce ne sono due, no? Comunque... Non per San Gostato, da San Gostato, dove è il rotatorio di San Gostato? C'è una strada sulla sinistra, c'è scritto strada di mezzo. Lì, da lì e fino a casa mia la devono fare. Non so perché hanno portato via tutto, non si è previsto più nessuno, non so perché. Adesso non lo so dire neanche io, adesso lo verifico. Può anche essere che per ragioni tecniche della ditta si sia spostata. Adesso non so dire, lo verificherò. Poi magari se recuperiamo il telefono glielo facciamo anche sapere. Eh, va bene, va bene, lo ringrazio. Prego, buona serata e buone feste. Buona serata. Sindaco, le chiedono, non era meglio riqualificare la zona mare fino alla Baia Metauro? Ci sono progetti anche per quella zona? Tutto sarebbe da riqualificare. Tutto, però dobbiamo fare i conti con le risorse che abbiamo a disposizione. In questo momento avevamo queste risorse e oggettivamente questa era la parte più importante, in qualche modo quella più vissuta e c'era una necessità. sulla zona di Baia Metauro, che ha tutt'altre caratteristiche, sulla quale c'è un'attenzione e sta dentro il quadro di riqualificazione complessiva. Lì è una zona più naturalistica e deve mantenere quel valore. Quindi adesso non potrò essere io, ovviamente. Chi verrà dopo avrà il compito anche di ragionare quale progetto proporre per quella zona. Ci sono tante aspettative anche per l'area dell'ex AGIP? Beh, lì i lavori sono partiti, quindi quella zona andava riqualificata. E' stato un percorso lungo anche qui di bonifica, perché non siamo entrati, perché doveva esserci la consegna da parte di Eni, che adesso è avvenuto in effetti. Abbiamo fatto la gara, c'è stata un po' di discussioni sulla Fontana. Adesso vorrei spiegare perché alcuni dicono, fanno i giochi, prendono la Fontana, la spostano a un altro. Non facciamo nessun gioco. La sovrintendenza ci ha imposto di prendere quella Fontana e portarla al di là. E di togliere lo stemme, insomma, che non avete previsto. Secondo me faremo qualcosa di sbagliato, ce ne renderemo conto dopo, ma noi siamo obbligati. Comunque noi faremo due stralci, un primo stralcio alla riqualificazione attuale, poi sulla Fontana richiede più tempi e quello richiederà ulteriori mesi e quindi si vedrà più avanti. Dove verrà collocata esattamente? Ecco, qui vediamo le immagini storiche. Dove era una volta. Ok, quindi più o meno nello stesso punto. E i lavori termineranno? Sono alcuni mesi di lavori, quindi penso per maggio, aprile, insomma, sarà l'ultima. Abbastanza veloci. Fabbrica del Carnevale, anche lì i lavori in corso, insomma, l'ufficio energia ha buccato. Anche lì i lavori sono partiti, purtroppo un ricorso ci ha fatto perdere quasi due anni. Questi sono i limiti del nostro paese dell'Italia, che su una questione che magari in poche ore si potrebbe definire, perché dovevano definire un punto a chi lo attribuivano delle due società. Rinvii mesi, purtroppo. Questo è il nostro sistema della giustizia italiana, quella civile. Poi ci sono conseguenze, perché questi ritardi portano ad un lievitare di risorse, quindi con il ribasso noi avremmo coperto le spese dell'allestimento interno. Quindi occorreranno altre risorse per l'allestimento interno quando sarà finito. Comunque è una bella struttura, un bel luogo fortemente attrattivo, che porterà un ulteriore punto di attrattività della nostra città, e non soltanto per Fano, ma anche per le zone limitrife, non solo. Ricordiamo che proprio nei giorni scorsi avete dato la notizia di aver intercettato altri 408 mila euro, quindi insomma fondi e risorse importanti per l'efficientamento. Sì, non solo, anche 6 milioni e mezzo per l'ex teatro romano. Anche questo è un risultato straordinario, di cui mi vanto la soddisfazione e anche la capacità di intercettarli, perché non sono scontati. E città come nostre, che non sono città capoluogo e quindi è un handicap, io mi sento di affermare che grazie al lavoro fatto in questi anni noi abbiamo avuto molte, abbiamo intercettato molte risorse che altre città nelle nostre condizioni non sono riusciti ad avere. Perché poi la buona amministrazione si misura su queste cose. Quando arrivano in modo facile tutti sono bravi. È nelle condizioni più complesse che si vede la bravura di chi amministra e la capacità che ha. E alcune volte anche creatività mi viene da dire. È vero. Rimaniamo adesso sul tema dell'arte. Abbiamo visto prima qualche immagine, perché grande interesse è stare scotendo la mostra del Perugino, questa palla di Fano che è tornata a far bella mostra di sé dopo un restauro importante. Anche qui dovremo avere qualche immagine. Tra l'altro ha suscitato la curiosità anche di Vittorio Sgarbi, che ha fatto un sopralluogo proprio per vedere questa opera straordinaria. Insomma, potrebbe portare tanti turisti in città. Beh, questa è una bellissima mostra, ma soprattutto è un patrimonio straordinario che noi abbiamo. Il pittore Vannucci, detto il Perugino, che nel 1488 ebbe questo contratto, nella società il primo pittore al mondo recitava il contratto. Guardi, le do la misura del valore che ha questa riqualificazione, questo restauro, lo ha effettuato l'istituzione più importante al mondo, che sono l'Office delle Pietre Dure di Firenze. Quando si pronuncia questo nome tutti si fermano, perché è un'istituzione di grande professionalità e di grandi capacità. Bene, l'intervento ce l'hanno fatto gratuitamente, ci avevano chiesto il primo momento 100.000 euro, noi non siamo stati in grado di recuperarli, alla fine ce l'hanno fatto gratuitamente con una commissione, un gruppo di lavoro interdisciplinare, che oltre al restauro ha riportato alla luce tutta una serie di aspetti di grandissima importanza. Quindi dobbiamo essere orgogliosi di avere questa palla con la predella e la lunetta. Quindi questa è una grande occasione, direi unica, prima che verrà riposta alla sua sede naturale, che è Santa Maria Nuova, perché la si potrà visitare, ammirare da vicino, all'altezza Duomo, che considera di vedere, a occhio nudo, particolari che altrimenti non si noterebbero. E potrebbero sfuggire. Quindi invito tutti che loro l'avessero fatto ad andare ad ammirare questo straordinario dipinto, che è orgoglio e valore straordinario della nostra città. Sindaco, ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo in diretta, tra poco. Siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Fano Massimo Serri, le leggo qualche messaggio. Ci dicono che in Sassonia c'è armassato in ferro di Papa Voitila, rimossa per restauro, poi mai ricollocata. Io non ne ho memoria, non ricordo però. Non vorrei fare la brutta figura, ma da quando sono sindaco penso ci sia mai stata. Adesso farò un'indagine, probabilmente questo è avvenuto prima che io arrivassi. Mi suona nuova, devo dire la verità. Però ringrazio il telespettatore per averlo segnalato e quindi sarà motivo di verifica. Se può poi verificare anche con i suoi uffici le chiedono l'asfaltatura in strada di camminate, insomma anche quella è molto richiesta. In via Cavoto invece, qui dovremo avere regia a due foto che ci ha inviato un telespettatore o telespettatrice. All'angolo con via Onelli il vento ci dice ha fatto cadere lo specchio stradale che per fortuna non si è rotto. Eccolo qua, servirebbe che venga ripristinato, viste le macchine che devono uscire dal garage. Andiamo avanti con un altro cantiere al centro civico di Gimarra. Sono partiti i lavori per il primo piano. Abbiamo qua l'immagine, abbiamo realizzato anche un servizio su Occhio alla Notizia. Ecco, altri lavori attenti dalla città. Ecco, anche su questo mi piacerebbe dare, sottolineare un aspetto. Molte volte leggo, si fanno le cose solo al centro. In realtà noi in tutti i quartieri abbiamo fatto interventi importanti. Poi dopo ci si dimentica, però sono veramente diversi, di vario genere, in tutti i quartieri. Ma veramente in tutti, dal verde, dai spazi attrezzati, interventi di abbellimento, di manutenzione. Questa struttura vuole essere un esempio di come devono essere organizzati i quartieri. Cioè, dal nostro punto di vista, la qualità della vita si misura dove si vive e in tutte le frazioni, in tutti i quartieri. Tutti devono avere gli spazi di socializzazione per fare attività, per promuoverle e avere dei luoghi di incontro per dar vita alle attività delle associazioni del posto. E qui, questo è uno spazio importante perché abbiamo già fatto un intervento sul piano terra negli anni scorsi. Mancava questo secondo piano dove verranno realizzate aule, spazi per farci tutta una serie di attività. E quindi, mi viene da dire, è un po', in qualche modo, lo spirito dei quartieri dei cittadini. Certo. Le attività devono essere fatte per loro. Quindi sono molto orgoglioso di questa scelta. Gimarra è un quartiere periferico, quindi ha maggior ragione quando uno è... Adesso non è lontano dal centro, per carità. Però si hanno sempre dei limiti quando si è fuori e non si hanno degli spazi. E quindi questa è un'occasione per stimolare e per mettere spazi a disposizione della gente. Vorrei farle rispondere a un comunicato stampa arrivato nei giorni scorsi da parte della Lupus in Fabula. L'amministrazione comunale, c'era scritto, ha trovato un accordo con i due nuovi proprietari per l'ex zuccherificio ma ha tradito, scrivono non solo le risultanze del percorso partecipato avviato nel 2016 ma anche la delibera del 36-2016. Il comparto principale, dove ora esistono le strutture in cemento armato, sarà destinato ad un polo logistico mentre vengono confermati i 36.000 circa metri quadrati di superficie commerciale. Praticamente hanno proseguito una resa agli interessi privati. Questo senza far nessuno studio sull'impatti anche del traffico di mezzi pesanti e leggeri che transiteranno per raggiungere i nuovi negozi e magazzini. Che cosa è successo, Sindaco? Non è successo niente di particolare, nel senso straordinario. Quello che dice è tutto vero, abbiamo fatto percorsi partecipati però non possiamo suonarcela e cantarcela all'infinito senza che nulla accada. Quelle sono aree private. Se noi diciamo che un'area privata è a casa sua, a casa di qualsiasi cittadino adesso tu devi fare questo e questo e questo. Lui lo farà se è sostenibile, altrimenti rimarrà la situazione di degrado che c'è. E questo è quello che è avvenuto perché le idee erano tantissime ma non ce n'è una che ha avuto una praticabilità. C'è stata una proposta, lì c'è una situazione di indecenza perché non è più sostenibile, sono tanti anni, tutti ci hanno messo le mani e nessuno è andato a buon fine. Quindi c'è stata questa proposta che porterà posti di lavoro. non è industria, è una struttura di logistica e quindi abbiamo ritenuto opportuno concederlo anche perché si riduce notevolmente anche lo spazio che si andrà ad occupare. Per quello che riguarda lo studio abbiamo chiesto di fare uno studio, abbiamo messo proprio come obiettivo di fare uno studio di incidenza del traffico in quella zona, anche se è una zona ovviamente non residenziale, quindi adibita per quelle attività di carattere commerciale e artigianale. Un altro messaggio per lei, circolano a Fano, bici senza luci di notte, vigili non effettuano le multe previste, ci sono anche molti incidenti. Aggiungo, visto che abbiamo avuto tante lamentele, padroni incivili che fanno fare bisogno ai loro amici a quattro zambe lungo le fioriere del centro storico, molto indecente, però sindaco anche qua, qualche multa in più forse non farebbe male proprio per dare un buon esempio come deterrente. Sì, adesso quando c'è il vigile magari il proprietario di Cane sta attento, però c'è anche una questione di educazione, perché sempre la base di tutto è questa qui. Io anch'io ho avuto il cane e giravo col sacchettino e quando facevo i bisogni li raccoglievo. La caserma dei pompieri, ci sono novità sindaco? Beh, stiamo procedendo, anche questa è una storia lunga in me che mi fa anche un po' di dispiacere perché gli fece una bella operazione con grande soddisfazione di ottenere le risorse per la nuova caserma di Vigile e Fuoco. Anche su questo hanno lavorato in tanti, però io sono riuscito veramente a trovare risorse e farle direttamente. Poi c'è stato il percorso progettazione, purtroppo con post pandemia, con la crescita e rincari, tutte le ditte che hanno partecipato hanno rinunciato, dalla prima fino all'ultima. Quindi ci siamo trovati costretti a riaggiornare i prezzi, richiedere nuove risorse al Ministero che ci ha riconosciuto. Il Vigile e Fuoco, il Comando, visto che a quel punto non era partita la realizzazione, ci hanno chiesto ulteriori modifiche da portare, visto che c'eravamo, così facciamo le cose ben bene. Quindi abbiamo accolto questa loro richiesta, sono state portate le modifiche, queste sono terminate, adesso è alla vidimazione, c'è una valutazione che deve fare un soggetto terzo sul progetto, ma è questione di giorni perché già decine di giorni stanno lavorando, di solito durano una ventina di giorni, quindi ci siamo, poi deve essere vidimato per l'ultima volta dal Ministero che nel frattempo parallelamente ha avuto tutta la documentazione e quindi io penso che nel giorno in mese questo venga chiuso e poi c'è la gara, quindi dovremmo andare alla posa della prima pietra, immagino, intorno ad aprile, speriamo. Incrociamo le dita. Via del Ponte piena di buche, prevista nel piano sfaltature, insomma so che lei non ha qua il piano, quindi giriamo la segnalazione di questo telespettatore. Sindaco, siamo quasi in chiusura, direi di chiudere con il Natale, che cosa farà nei prossimi giorni e poi ricordiamo anche che ci sono tante belle attrattive nella nostra città. Beh, un sindaco non si ferma mai, quindi siamo alle prese con tutte le attività e con la chiusura anche di tutti i progetti, di tutte le diter amministrative che devono essere chiusi entro fine dell'anno, quindi siamo in piena attività, ma è una città pronta ad accogliere, a offrire tutta una serie di iniziative. Farete anche un bilancio di fine anno? Faremo anche la tradizionale conferenza di fine anno, fra il 27 e il 29, e poi ne faremo una di fine mandato perché è giusto che ci sia una restituzione ai cittadini di tutte le attività svolte in questi dieci anni. E se mi permettete vorrei rivolgere anche un augurio a tutte le persone che ci stanno seguendo, augurando che questo Natale e l'anno nuovo siano occasioni di serenità e di pace, lasciatemi dire anche di pace perché purtroppo quello che sta intorno a noi, ma non è soltanto i conflitti, ma ci sono anche quei conflitti tra le persone e allora auspichiamo tutti che possa esserci sempre più pace in questo spazio che tutti viviamo, che è tanto bello e accogliente e allora è un peccato rovinarlo. Grazie Sindaco per essere stato con noi, ci rivediamo per quanto riguarda Primo Cittadino nel 2024. Grazie ancora a Massimo Seri, un ringraziamento anche alla regia Cristiana Guerra e Riccardo Sora, vi ricordo che la prima puntata del 2024 sarà lunedì 8 gennaio, sempre in diretta. Grazie per averci seguito, ci rivediamo dopo, occhio alla notizia.